e benvenuti ragazzi in questo nuovo video io sono lollo e insieme a nick low e oggi siamo su titanfall 2 devasto cioè guardate quanto è figo ragazzi è fighissimo guarda che faccio però è bello non pensavo si è così capace di giocare infatti abbia fatto un tutorial prima anch'io un po che ho provato ma non mi piace si ma data però per un po schifo no no buono buono ma più o meno vedi che dovrebbe lanciare la razza vabbè se lo dici tu no lo decano fermo 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 no meno male nooo vabbè si lo so però è per dire questo potrebbe metterti capo ma sarai bene quando ti riprenderai che figo ma 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 non devo fare niente no non mi fa niente non devi guardare madonna che cosa drammatica chi ha sto ciccioni mo Non so, ma non tu non mi sa, devo disparare. Vabbè. Ecco, pervertito. Vabbè, nonostante ciò... Ma che è sto che roba? Levate, levate! Sì, vedi? Che figo! Che figo è un po' di ciuffoli. Sto con l'arma, dai! Bella! Dove? Chi? Sono ferito. Non mi chiede tanto. Insomma, è morto. Aiuto il capitano. Bello, bravo. Fine drammatica? No, ma che drammatica. Soltanto tragica. Non c'è una testata. Ah, gli ha fatto la donna. Nonna, così piccola a me. Figo. Sì, non c'è una testata. Sì, non c'è una testata. Sì, non c'è una testata. Come hai fatto la donna? Con quale fisica? non c'è una testata. come fai ad entrare? Abbassati. 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 Ah, non si può utilizzare, dice. Voi ci ha detto di utilizzarlo, è mezzo scassato. Ma che? Ma che è? C'è fada... Fanta... Ah, iacce, iacce. Levatevi i cosi orribili. Oh, io sono sotto gli occhi. Hai visto? Serio? Beh, è bello. Ma il forno? Guarda, è buono, eh. Nuove armette. Ah, sul muro devi cuore l'olio. Ecco, ecco. Ma, ma, io avrei col 360, grande lollo. Bravo. Bello, stai a giocare. Dov'è? Bravo. Lei l'ho attirato. Ma a sto punto finisci di attirare. Oh! Ha tovrendo il corpo. Ehi, con che fisica quella è risalita. Oh, mi è morta. Eh, che bella. Eh, wow. Non si sa mai. Colpo finale alla testa, ragazzi. Che arma di merda, Lolo, che ti sei presa. Grande Lolo, che salvataggio. Ma che è? Oh. Ah, uno su due. Mo? Lolo, devi andare. Ecco. No, no. Verso sinistra. Qua in vista. Ah, ho capito, ho capito. Sì. Eh, così. No. Morte tragica. Wow, figo. Ok. Devo fare la parete. Eh, mi sono dissi. Un po' forte, Lolo. Poi scrivete nei commenti se vi piace questa serie, cioè non serie, se vi piace o che, cioè scrivete nei commenti se vi va o non vi va, ecco. Punto. Aspetta, sento qualcuno. No, voglio le coppe. Che medaglie? Ma... Ecco. Nico mi sa che... Eh... Sì, li doveva uccidere, no? Sì. Ci vediamo la prossima volta, ragazzi. and... Eā... Sì...